Il profumo della terra, la soddisfazione del sacrificio, la sensazione del vento sulla pelle, la bellezza dei colori. Tutto questo non si racconta, si vive. Abbiamo una proprietà di 4 ettari che noi abbiamo messo a disposizione in fuomo dato d'uso alla cooperativa Beta 2 affinché ne sviluppasse un orto. Con i prodotti dell'orto vengono alimentate le mense degli asili e delle strutture che la cooperativa gestisce per l'alimentazione. I bambini, come dicevano prima, hanno esperienze nell'orto con i genitori e con i nonni. Creare ancora di più questo legame con quelle che sono le attività di base dell'alimentazione e del futuro anche di queste giovani generazioni. E poi il progetto che è stato avverato, avviato qua è pazzesco. Dare modo di lavorare a delle persone che hanno difficoltà ma che secondo me ci mettono 300% in quello che fanno perché l'ho visto nei loro occhi la passione che ci mettevano. Non riesco a trovare un punto della catena che qualcuno possa mai attaccare. Il lavoro della terra crea un rapporto diretto con la natura e con il mondo in cui lo si fa che ti restituisce un sacco di cose belle, di emozioni, di sensazioni. È un sacrificio che si fa volentieri appunto, come si diceva una volta. Grazie. Grazie.